Napoli abbraccia Cortina, il Vesuvio e le Dolomiti non sono mai stati così vicini e in occasione del campionato del mondo di sci alpino che si terrà il prossimo febbraio 2021 Ugo Cilento, storico marchio partenopeo, ha realizzato per l'evento una cravatta e un fular commemorativo. La consegna al comune di Cortina d'Ampezzo alla presenza del sindaco Gian Pietro Ghedina. Devo dire che i mondiali non sono solamente locali ma sono un'occasione, un'opportunità per farsi conoscere a livello internazionale e chi meglio della campagna, di Napoli, Cilento anche per proporre queste bellissime cravate e questo bellissimo fular. Tanti sono gli articoli che propone la Fondazione Cortina 2021 però direi che veramente qui ci sono degli ottimi articoli di qualità di artigianato del nostro Made in Italy. La cravatta in un intenso color blu navi riporta sulla pala principale lo scudetto dell'evento che trasmette la passione per lo sport e lo sci, elementi tipici di Cortina, con l'emblematico tricolore e lo scoiattolo rosso, simbolo per eccellenza della regina delle Dolomiti. Questo è il commento di Ugo Cilento. Aver disegnato le cravate fular per i campionati del mondo di sci che si svolgeranno a Cortina è un motivo di grande soddisfazione per il prestigio, per l'elegante Italia nel mondo. Per me è un onore, un piacere, Cortina è un'eccellenza italiana, è una perla delle Alpi e quindi auguro a tutti di godersi i campionati del mondo con eleganza e stile.